E' stata soltanto un amichevole internazionale prima dei mondiali di calcio, quella tra Venezuela e Panama, ma che ha regalato tante emozioni ad Ernesto Torregrossa. Esordio con gol, quella del bomber nisseno del Pisa, che è entrato a partita in corso, ha trovato il pareggio al 93esimo per la Sele Vino Tinto. Partito dalla panchina, nel primo tempo ha visto la sua nazionale andare in svantaggio, ma nella ripresa il CT Peckerman ha deciso di buttarlo in gambo e farlo esordire. Al 79esimo il raddoppio del Panama sembra spezzare le ali al Venezuela, ma prima un rigore trasformato da Rondon riapre uno spiraglio e poi, nei minuti di recupero, a fondo di Savarino sulla sinistra, che mette in aria un gros basso, dove l'attaccante del Pisa si avvenda prima di tutti e si regala un'emozione indescrivibile per il suo primo gol in gambo internazionale, che neanche il giallo, per essersi tolto la maglia, lo ha scalfito.